Grazie a voi. Proprio di recente abbiamo visto una specie di appello, insomma una bella lettera indirizzata al governo sulle misure che l'associazione vorrebbe venissero adottate per il settore immobiliare. Ne parliamo fra un attimo, facciamo prima una presentazione di questa battagliera associazione che proprio lei ha fondato nel 2009 e che oggi si è già sviluppata in una maniera molto molto presente sul territorio. Sì, Confabitare è un'associazione che tutela gli interessi dei proprietari immobiliari, quindi chi è che si iscrive a noi? Si iscrive a noi tutti coloro che sono proprietari di case e che quindi hanno necessità di avere informazioni, comunque di essere tutelati con tutti quelli che sono i problemi quotidiani che attanagliano i proprietari immobiliari. L'associazione Confabitare nasce a Bologna nel 2009 e ben presto si è sviluppata a livello nazionale, tant'è che oggi abbiamo 55 sedi provinciali in tutta Italia, partendo da Milano, Torino, Gorizia, Trieste, fino giù a Messina, Reggio Calabria e Cagliari. Abbiamo 55 sedi provinciali, siamo presenti in 16 regioni su 20 con 40.000 iscritti, quindi diciamo uno sviluppo in questi tre anni che è stato sicuramente migliore di qualsiasi aspettativa. E lo possiamo dire anche con una presenza che si sta rinvigorendo anche proprio sul nostro territorio, no? Assolutamente perché è sabato prossimo che il 15 giugno inaugureremo la nostra sede a Treviso, abbiamo già delle sedi operative a Gorizia, Trieste e soprattutto stiamo lavorando per aprire una sede a breve anche qui a Padova. Molto bene, allora Confabitare nasce perché? Perché c'è bisogno anche di preparare, oltre che di dare degli strumenti, come diceva lei, ai proprietari immobiliari e questo ci porta proprio a parlare appunto della situazione del settore della proprietà delle case. Noi sappiamo, ma adesso le chiedo di darci qualche numero per farci capire ancora meglio, sappiamo quanto alta sia la pressione fiscale sulla casa, vero Presidente d'Italia? La pressione fiscale sulla casa è elevatissima nel nostro paese e come percentuale è la più alta in assoluto, confrontandoci anche con tutti gli altri paesi europei. In Italia il 57% è il livello che è raggiunto la pressione fiscale sulla casa. Noi abbiamo fatto anche, ci siamo divertiti a fare uno studio sul calendario, fissando dal 1 gennaio al 31 dicembre il periodo di un affitto di una casa. Bene, tutto quello che viene incassato dal 1 gennaio al 26 luglio, sono tutti soldi che il proprietario veste in tasse, imposte e comunque diciamo in spese per la casa. Solo quello che incassa dal 27 luglio al 31 dicembre è quello che può intescare il proprietario come incasso dell'affitto. Salvo imprevisti, perché poi sappiamo che nelle vicende di proprietà immobiliare insomma ne capitano parecchie. Certamente, salvo imprevisti, però già così è parecchie elevate. Già così è tantissimo. Ed è la più elevata d'Europa. Allora, tante volte facciamo il paragone con l'Europa in realtà, insomma lo facciamo magari a volte quando conviene, ci si dimentica di quando non è più conveniente come nel caso del settore appunto della proprietà della casa. Ecco allora che pochissimi giorni fa avete stilato una specie di elenco che certamente attraverso i media è già pervenuto. Io credo che lei vorrebbe andare lì a consegnarlo direttamente a Palazzo Chigi dicendo che queste sono secondo noi le misure urgenti per salvare la casa e in generale però a favore dell'economia del nostro paese. Prima di tutto l'Imu come siamo messi ormai mancano pochi giorni per alcuni salto proroga diciamo più propriamente della scadenza rinviata a settembre salvo revisione della fiscalità sulla casa alcuni invece la dovranno pagare. Quindi prima di tutto così facciamo un bilancio sull'Imu. L'Imu è una tassa che è stata introdotta lo sappiamo nel gennaio del 2012 un anno fa e ha pesato molto gravemente su quella che è la pressione fiscale sulla casa che era già elevata e l'Imu ha contribuito ad appesantirla. Perché ricordiamolo è vero che l'Imu era già prevista come imposta che sarebbe comunque arrivata nel mercato immobiliare però era prevista per il 2014 comunque le prime case erano escluse dal pagamento dell'Imu e vi erano sicuramente delle aliquote più basse. Perché ricordiamo che il governo che ha introdotto l'Imu che è stato il governo Monti oltre ad averla anticipata di due anni oltre ad averla applicata anche le prime case ha aumentato il fattore di moltiplicazione da 100 a 160 che vuol dire aver aumentato l'importo totale del 60%. Quindi è stata una vera e propria mazzata che l'anno scorso nel 2012 è arrivata sui proprietari immobiliari. E' un altrettanto pesante introito ovviamente nelle casse dello Stato. Esattamente. Questa Imu cosa ha contribuito? Ha contribuito a deprimere il mercato immobiliare perché se noi vogliamo ricondurre tutto quello che è l'economia italiana, questa crisi economica che sta attraversando il nostro paese, dobbiamo pensare che il mercato immobiliare e il mercato dell'edilizia sono i principali perni per rilanciare l'economia italiana. Noi abbiamo visto che quando arriva una crisi dell'economia come è successo nel 2007 in Italia il mercato dell'edilizia aveva già rallentato da tempo, quindi c'erano già i segnali di una crisi economica che sarebbe arrivata. Così come si vede quando ci sarà la ripresa, speriamo presto, dell'economia avrà già ripreso da tempo il mercato dell'edilizia. Quindi diciamo c'è uno stretto collegamento tra il mercato immobiliare, il mercato dell'edilizia e l'economia. E quindi se vogliamo rilanciare l'economia dobbiamo rilanciare il mercato immobiliare che in questo momento è ingessato, si fa fatica a vendere, si fa fatica ad affittare e soprattutto se introduciamo queste imposte così elevate si farà sempre più fatica. C'è una depressione proprio del mercato immobiliare, così come le edilizie, sono tantissime le imprese edile che chiudono, che falliscono, che mettono in cassa integrazione i propri dipendenti proprio perché non vendono gli appartamenti. A fronte di tutto questo, come lei ha riassunto, la data di giugno rimane una scadenza per il pagamento del limo eccetto per i proprietari di prima casa e altre concessioni che sono state fatte con il rinvio a settembre. Ma a me interessa sentire da lei il passaggio sull'estate perché magari in tanti, un po' scettici, facciamo fatica a pensare che i tecnici lavoreranno per tutta l'estate alla revisione della fiscalità della casa. Invece ci sono un po' di garanzie riguardo a questo che è positivo. Delle garanzie che sono state diciamo dichiarate dal Presidente del Consiglio e anche dal Ministro dell'Economia, quindi diciamo garanzie di chi ci governa e dei tempi certi perché questi decreti che sono stati appunto emanati dal Consiglio dei Ministri debbono essere comunque ratificati, definiti entro il 20 luglio. Quindi non stiamo parlando di dati ipotetiche o periodi così fluttuanti. Cioè entro il 20 luglio deve essere tutto chiaro, per questo poi c'è il termine di settembre per lo slittamento della prima casa. Quindi entro il 20 luglio ci sarà a mio avviso la soluzione definitiva di come superare l'IMU sulla prima casa, probabilmente all'interno di una revisione globale della fiscalità sugli immobili. Noi tra l'altro siamo convocati proprio in Commissione nei prossimi giorni proprio per portare alla Camera e al Senato quelle che sono le nostre proposte, quelle che sono le nostre idee di come migliorare la pressione fiscale sulla casa. Le vostre conoscenze di reti interessati, cosa che diciamo davvero viene bene, viene nel momento giusto. Non sempre i governi nel passato hanno fatto vedere di ascoltare proprio chi sapeva da un punto di vista tecnico quotidiano. Un breve passaggio, prima che ci scappi via tutto il tempo, sulla cedolare secca. Per lei il parere su questo sistema che è stato adottato è un bilancio positivo? Secondo noi sì, dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, l'introduzione della cedolare secca sicuramente è stata un'introduzione positiva. È uno strumento che anche noi all'epoca abbiamo sostenuto, abbiamo caldeggiato l'istituzione e l'introduzione della cedolare secca nel complesso fiscale degli immobili. Quindi ha portato dei risultati, perché alleggerendo la pressione fiscale sulla casa sicuramente ha anche invogliato i proprietari ad affittare, quindi avere meno immobili sfitti e metterli più all'occasione. Chiaramente come tutte le cose possono avere delle sfumature che vanno migliorate sicuramente, quindi si tratterà di lavorare. Adesso anche nell'occasione, visto che ci sarà una revisione globale della fiscalità sugli immobili, anche sicuramente rivedere, migliorare la cedolare secca sarà possibile. Questo secondo me è uno strumento che va tenuto. Nel frattempo l'associazione ha aperto uno sportello SOS IMU. Io immagino telefono rovente, più o meno, insomma. Come funziona? Noi abbiamo aperto due sportelli in realtà per dare informazione a tutti i cittadini a livello nazionale, quindi non parliamo solo, a tutti i cittadini su quelle che sono proprio le novità imminenti di questo periodo. Che vorrei ricordare che sono due tra l'altro vicinissime anche come data. Il 17 di giugno, che è la scadenza della prima rata IMU, il 18 giugno, cioè il giorno dopo, l'introduzione della legge di riforma del condominio. Ah, certo, certo. Grandi cambiamenti. Grandi cambiamenti. Quindi diciamo molti condomini, molti proprietari, di fronte a tutte queste novità, si trovano un po' disorientati. Quindi noi attraverso la linea telefonica o l'email, che dopo magari ricorderemo, diamo tutte le informazioni a livello nazionale, quindi qualsiasi cittadino d'Italia, quindi anche dal Veneto, dal Friuli, ci vogliono chiamare per le informazioni, sia sull'IMU, le novità dell'IMU e le novità della riforma del condominio, che ripeto, tranno in vigore quest'altro martedì, il 18 di giugno, potranno trovare tutte le informazioni. Facendo come? O telefonando la nostra linea telefonica, che è lo 051 270 444, oppure inviando una mail a info-confabitare.it e riceverà la risposta in tempo reale su questi problemi, appunto, che ormai sono qui scadenze proprio ravvicinate. Sare avvicinate per problemi che molti affrontano ogni giorno. Diciamolo subito, il sito, invece, è proprio quello che faceva riferimento a lei, quindi www.confabitare.it E lì si troveranno anche tutte le informazioni delle novità che ci sono, appunto, di questo periodo, perché abbiamo parlato dell'IMU, abbiamo parlato della riforma del condominio, però c'è stata anche la proroga per i bonus sulla casa, per gli incentivi, appunto, per le ristrutturazioni e per quello che riguarda la riqualificazione energetica, ma non solo, si potranno trovare anche gli indirizzi di tutte le nostre sedi operativi in Italia, comprese quelle nel Veneto, in Friuli, che noi stiamo, appunto, dove stiamo operando, ricordo, c'è Gorizia, Trieste, per quanto riguarda i Friuli, Treviso, che inaugureremo sabato prossimo, e Padova, che ci stiamo lavorando per aprirla. Molto bene, allora, un mondo molto vivo, tantissima attività e impegno, noi la ringraziamo per essere stato qui nei nostri studi, e noi, naturalmente, continueremo a seguirvi come notiziario, quindi magari ci sentiamo quando sarà il momento per voi di andare a Roma e così ci darà un aggiornamento in tempo reale. Intanto, buon lavoro, Presidente, a lei, ad Alberto Zanni e a tutta l'Associazione. Grazie, grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci domani alla stessa ora. Grazie a voi.